Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove vi spiegherò il bombastic, andiamo a vedere Questo trucco si può ripetere all'infinito perché in realtà non è un change tipo lo snap che si può fare solo una volta, massimo tre volte il 3 cycle perché la carta rimane dietro Ma questo trucco è un trucco molto più semplice perché basta saper fare questo Le carte scelgono avanti e indietro in questo modo E la mano va a coprire Ora così Non è un change da fare in pubblico ma in camera Andiamo a vedere un'altra applicazione che può avere questo change Ci può usare l'applicazione a ventaglio Proprio come quella originale che fece Jack Muller Quindi questo come avrete bene capito è stato inventato da Jack Muller Mi sta venendo male perché ho la telecamera e guardo dalla telecamera e non guardo le carte E non riesco a capire quello che faccio E' molto bello Non è difficile da imparare E' molto... Da una bella performance E fa veramente vedere al pubblico Perché se viene facile di fare cose veramente belle e difficili E' molto bene E' molto bene E' molto bene E' molto bene E'